Adesso giochiamo in questo gioco Ho tante, ho tante schede Facciamo la perfezione Perfezione, perfezione, perfezione Perché ce la faccio? Perché ce la faccio? Ce l'ho fatta? Un alterno Ce l'ho fatta La 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 mi ha scelto il 10 La 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 Grazie Ma che pubblicità Raghi comunque ora faremo un giro Prendiamo qualche uova Per sicurezza Prenda quello di qua Ok Ok Non ci vedo niente No! Non ci vediamo la faccia Una pressa nuova Una pressa nuova Cad'è la gaicia? Non ho mai un'eserciata più grecia E' un po' più importante che in questo modo, non lo so, e non lo so. Non so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Momma. Momma. si non è l'ultima 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 la mia fai c'è l'ultima Non posso perché c'è questa colonna di fuoco No Non ce l'ho fatta Non lo provo Non lo provo Vi lascio Non lo giro Non lo lasciare Grazie a tutti. Grazie a tutti.